Ultimo Gran Premio della stagione di Formula 1 2020, ultimo Racing Podcast stagionale. Per concludere i campionati motoristici ci trasferiamo ad Abu Dhabi, dove per tradizione oramai decennale si chiude il Mondiale di Formula 1. Un Mondiale di Formula 1 che non aveva niente da dire, un Mondiale di Formula 1 che di fatto era l'ultima gara prima di cimentarsi già da martedì nei test prestagionali in ottica 2021. È una gara che ha regalato uno spunto di interesse diverso perché per una volta non ha vinto la Mercedes, per una volta è stata resa giustizia a un pilota che per talento avrebbe meritato molto di più durante l'anno, ma che per affidabilità della macchina non è riuscito a concretizzare assolutamente niente. Sto parlando di Max Verstappen che per una volta fa il Lewis Hamilton, la macchina non lo tradisce e riesce a fare una gara dominata dall'inizio alla fine, dalla pole position al sabato in qualificazione alla vittoria finale tagliando il traguardo per primo davanti peraltro ai due Mercedes. È un gran premio che appunto si concentra su questo aspetto della vittoria di Verstappen e anche sul ritorno immediato di Lewis Hamilton che la scorsa gara, la saltata per Covid, si diceva che non avrebbe corso qui ad Abu Dhabi e invece grazie a un doppio tampone negativo è riuscito a entrare di nuovo nella bolla della Formula 1 e a presentarsi in gara. Si è presentato, ha fatto podio e chiude col terzo posto il suo campionato. Una gara di Abu Dhabi che per la verità non ha niente da dire se non appunto che quest'uomo che vedete qui inquadrato con la Red Bull ovvero Max Verstappen è stato assolutamente dominante. Non c'erano assolutamente avversari per l'olandese che dunque taglia il traguardo per primo e va a vincere davanti a Bottas e Hamilton. Le Mercedes che in questa gara probabilmente complice un po' il rompete le righe dell'ultima gara del campionato, un Lewis Hamilton che è tornato non al 100% evidentemente e probabilmente insomma non un setup ottimale su questo circuito hanno un po' lasciato spazio a quello che evidentemente sarà un avversario per i prossimi mondiali verosimilmente ancora contro Mercedes ovvero Max Verstappen. La Mercedes non sembrava neanche in grado di poter competere, è una gara che è filata via liscia, c'è stato soltanto una cosa da segnalare in più ovvero il ritiro di Sergio Perez che da vincitore del Bahrain gara 2 si ritrova ultimo ritirato in pista per un problema tecnico alla sua power unit. È un momento topico quello lì perché appunto tutti i piloti di testa si fermano per mettere le goperture nuove per arrivare di fatto a fine gara. Si fermano tutti in realtà tranne la Ferrari che fa una strategia in realtà abbastanza discutibile ma ci arriveremo per la Ferrari che è stata una gara ancora una volta in colore, segno che questa zona 2020 è fallimentare anziché no ma dai giudizi più approfonditi ne parleremo nel pagellone della Formula 2020 che uscirà giovedì quindi quello vi invito a non perdervelo. Questo ultimo Racing Podcast serve un po' per ricapitolare quello che è successo e per appunto già introdurci nella stagione 2021. È una gara che veramente è filata via liscia, una gara abbastanza noiosa se non totalmente noiosa a mio modo di vedere. L'unico motivo di interesse vero era se Verstappen poteva diciamo arrivare secondo nel mondiale che è una posizione a mio avviso che avrebbe meritato per quanto visto e vista anche la pochezza di Bottas in questa stagione in generale. Bottas comunque oggi ha fatto la sua gara, è stato davanti sia a Hamilton e ha difeso diciamo la sua posizione su Verstappen finendo l'olandese primo e Bottas secondo l'olandese ha diciamo perso la seconda posizione del mondiale appunto difesa da Valderi Bottas. È la seconda vittoria in stagione per Max Verstappen che comunque ha fatto una signora stagione con una macchina in realtà inferiore segno che comunque il pilota ci ha messo veramente del suo per la seconda volta in stagione. Suona Het Wilhelmus lino nazionale olandese, c'è ancora una volta una doppietta Mercedes dicevo ma non sul podio perché Valtteri Bottas è secondo e Lewis Hamilton è terzo ovviamente intendevo non nei gradini primo e secondo ma secondo e terzo. Hamilton terzo appunto è rientrato dal covid, ha fatto una prestazione normale in qualificazione, non era l'Hamilton devastante che eravamo abituati a vedere evidentemente la malattia un po' l'ha condizionato ed è stato stato tanto secondo me vederlo in questa situazione. La gara più interessante in realtà non era nelle prime quattro posizioni ma era diciamo al di là di queste prime posizioni perché appunto c'era una lotta diciamo tra McLaren, Renault e Racing Point per il terzo posto del campionato costruttori lotta che per mia gioia e per mia grande soddisfazione la spunta la McLaren perché Lando Norris e Carlos Sainz fanno l'inglese quinto e il pilota spagnolo sesto con queste posizioni complice anche il ritiro di Racing Point con Perez e le Renault che hanno fatto abbastanza diciamo sotto le prestazioni normali con Ricciardo VII e Estebano con soltanto nono la scuderia inglese della McLaren si appunto giudica il terzo posto della classifica costruttori che recita Mercedes prima, Red Bull seconda e McLaren terza. Quindi per me che sono un grande tifoso della McLaren questo è il mio attimo di gioia perché finalmente la McLaren torna a livelli che le competono certo non è arrivato l'acuto, è arrivato per la McLaren qualche podio qua e là però con la costanza di risultati complici anche in realtà stagioni fallimentari di avversari più quotati, Ferrari in primis, arrivare terzi è sicuramente un buon viatico. Questa terza posizione garantisce comunque tanti soldi e speriamo che possa esserci una macchina competitiva per la McLaren 2021 che avrà Ricciardo e Norris in quanto piloti ufficiali. Gli altri piazzamenti che non ho nominato, Alexander Albon è finito quarto, ottavo è finito Pierre Gasly con l'Alfa Tauri e decimo Lance Stroll con quello che rimaneva della Racing Point. Ho parlato prima della Ferrari dicendo che ha fatto una strategia orrenda in questa situazione e questa cosa è dimostrata dai piazzamenti dei due piloti in particolare con Sebastian Vettel che finisce quattordicesimo appena dietro a Charles Leclerc che finisce tredicesimo. La Ferrari sbaglia secondo me una strategia che hanno fatto tutti nel senso che tutti si fermano per la Virtual Safety Car che è occorsa per l'incidente di Perez, la Ferrari che partiva con Leclerc su gomma gialla e Vettel su gomma rossa prosegue mentre tutti gli altri compresi quelli con gomma gialla delle prime otto posizioni si fermano e questa cosa la Ferrari in realtà la pagherà a metà gara perché verranno sverniciati da tutti i piloti che erano rientrati dietro quindi tutte le varie Renault, Racing Point, Alfa Tauri e chi più ne ha più ne metta. A un certo punto per dare l'idea della pochezza della gara della Ferrari Vettel e Leclerc sono ritrovati a lottare con Russell e Raikkonen Leclerc in momenti fa fatica a superare Raikkonen, anzi in realtà non ce l'ha fatta perché il finlandese è arrivato davanti al pilota monegasco Vettel dovrà lottare con Russell che è tornato in Williams per quest'ultima gara di Abu Dhabi e l'ha superato praticamente nel finale È una prestazione ovviamente in colore specchio di una stagione ovviamente disastrosa ma dei dettagli ne parleremo nel pagellone vi ricordo di giovedì Le cose interessanti da sottolineare è che tanti piloti hanno fatto l'ultima gara con il loro team Daniel Ricciardo ha fatto l'ultima gara con la Renault, è finito settimo, è stata l'ultima gara di Magnussen con la Haas È stata l'ultima gara evidentemente di Chiat in Formula 1 perché non è stato confermato nella scuderia di Faenza al suo posto dovrebbe arrivare Yukitsunoda È stata l'ultima gara di Sebastian Vettel con la Ferrari ed è evidentemente un argomento di cui parlare principalmente per la stampa italiana Vettel conclude in questo modo anonimo una stagione che è nata male e finita peggio Ha fatto 115 gan premi in totale, Sebastian Vettel con la scuderia di Maranello È un pilota che va con secondo me più rimpianti che soddisfazioni perché in un paio d'anni in particolare nel 2017 e nel 2018 Poteva lottare con Hamilton per vincere i titoli del mondo Non è riuscito a vincere il titolo con la Ferrari per proseguire quella tradizione del pilota tedesco a vincere su macchina italiana E lascia la Ferrari per andare l'anno prossimo in Racing Point al posto di Perez Che al momento è appiedato ed è clamoroso come il pilota che abbia vinto la settimana scorsa in Bahrain Sia a piedi al momento in attesa di capire cosa farà la Red Bull Vettel lascia dopo 115 gran premi con una 14esima posizione Leclerc ha fatto 13esimo, in questo caso il modetto Ferrari è tornato a essere quello che noi tutti amiamo Ovvero quello che sbaglia nelle strategie anche in una gara anonima Evidentemente questa è l'ultima diciamo pietra tombale su una stagione che i tifosi della rossa dovrebbero dimenticarsi È una stagione che comunque darà il là per la prossima del 2021 Già ripeto martedì ci saranno i test con i rookie e alcuni piloti che ritorneranno nel Circus il prossimo anno Per quanto riguarda questo Racing Podcast è tutto è stato un premio abbastanza anonimo Che ripeto ha visto la vittoria di Max Verstappen su Red Bull seconda stagionale Giovedì alle ore 19 tornerà però un video sulla Formula 1 perché approfondiremo tutti i piloti nella loro stagione Daremo i voti dunque ci sarà l'ultimo pagellone dei campionati motoristici di 2020 Prima poi di rivedersi evidentemente nel 2021 con nuovi video sempre a contenuto sportivo Fatemi sapere cosa ne pensate di questo Racing Podcast Il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto nel caso condividete il video Il saluto da parte di Meteotorger ci vediamo domani con un nuovo video Ma non sui motori bensì sul salto con gli sci Che avrà il suo primo mondiale di questa stagione Mondiale di volo che segnerà le medaglie con la gara a squadre Ciao!